Ma quale vita atletica io passo la domenica I count a te PC con 4TB tra freddo e vento delica I count a te Ciao ciao da SVIDEO Ben ritornati su SUPARK Grazie ancora per i 600 iscritti Grazie ancora, grazie tantissimo Allora, vediamo un po' dove eravamo rimasti A Cartman Ah sei tornato, vieni si è il coglionnazzo È ora di radunare le nostre forze Chiamali qui e avrai dimostrato la dedizione Cuba Keep Infatti abbiamo reclutato I Dark Nella scorsa missione Dunque adesso saliamo qua C'è il cellulare Tutti raccolta mentre voi eravate qui A spulciarvi il culo vicenda Sir Cuglionnazzo è andato in missione per il nostro regno Sir Cuglionnazzo è ora che tu venga Insignato di un titolo degno delle tue gesta Per il potere, mandalo, terzo gente La guardia rossa, per la gloria Io ti proclamo Comandante coglionnazzo Con tutti i diritti e privilegi del caso Yeah ragazzi Un comandante coglionnazzo Eric Eric Sappiamo dove gli elfi tengono nascosto il bastone Davvero? Vi ha appena intercettato i loro messaggi Il corvo di Twitter Le tengono nascosti a scuola Le hanno detto che stavano barando Ora marcieremo sulla scuola E faremo grondare i corridoi di sangue elfico Bene bene Molto interessante Difensori della libertà Vi ringrazio per il vostro coraggio e la vostra audacia Nell'unirvi nella nostra lotta Da stanotte non siamo più umani o narc Da stanotte siamo uniti Dark Mi sento Asi Homo Sapiens Questo è il corno Aiuto Ok ragazzi Abbiamo barricato l'ingresso Gli elfi hanno ricominciato i loro trucchetti Dei trovare un altro modo per entrare Ok Bene Andiamo a sentire un po' qua Prova dal bar C'è una parte dell'area Discarica Va bene dai Dopo ho vermazzullato un po' Passo qua da dietro Come mi è stato detto Ma non in mezzo agli alberi Dove vado Pregniamo se c'hanno della robetta qua Questi elfi morti Aiuto dai Oh quel dark lì sta male Poverino Lo devo fare aiutare Com'era con il comando amico Si guariva la gente Intanto guardiamo Eh facciamolo guarire Dai comando amico Guarici dark Ah beh si così mi apre la porta Bene 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 Bravo 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 Sempre topi dappertutto Sei nell'edificio Sei nell'edificio combatti per un tiranno Ma so che c'è qualcosa di buono in te Smetti di combattere per il tuo malvagio signore Liberati dal suo controllo Dunque Fuoco E dove c'è fuoco Si scorreggia sempre amici Yeah Ah un chipomonk Un chipomonk Non lasciamo niente eh Prendiamo tutto che Ogni pozione Ogni cosa è importante In questo gioco Sennò dopo nei combattimenti Sennò dopo nei combattimenti Una scuola Un gareggiatto bene Questa scuola Karthman mio amico Grande Pensavo lo fosse già Attacca le loro difese ai fianchi Vai tutto No Non ci si può passare Di qua no 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 non ci si passa no 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 ma neanche a fine pensavo si spaccasse qualcosa niente spacchiamo tutto ragazzi niente qua si spacca niente non entrare siamo passati da dietro ci hanno appena fatto pezzi come cagnacci tutti i miei amici sono morti ah vedete c'è la cosa che scintilla perchè la c'è gente ecco dunque perchè quello la è pronto con la canna a innaffiarmi e io devo spezzare quel tubo lì ah vedete vedete che mi tira l'acqua quello lì ma perchè non me lo prende ah devo cambiare posizione ecco da qua me lo prende dai ecco vai così un altro l'abbiamo fritto dico quello lì che trema andiamo tutto dunque questi qua si possono spezzare questi entrano nel corridoio ah là c'è la sonda è l'ora ah perchè ho fatto la scoreggia invece che la sonda aliena sono sbagliato ah 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 lì c'è del fuoco ah uno l'ho ammazzato già facendo cadere la grata ma adesso lì c'è del fuoco quindi ragazzi su park dove c'è fuoco si scoreggia vai vai comando amico non comando amico ho sbagliato ah si ok ok vai alla lobby come vai alla lobby ah scusa ammazzo quello lì ah ah mmm allora ragazzi nei combattimenti poi velocizzerò sempre qualcosa dopo vediamo a questo mi piace come incantesimo nuovo quello che c'è da scegliere mi diverte troppo questo qua vediamo cosa capita stavolta succhia vita però gliene ha tolto succhia vita un'altra vittoria per il buon gioco un'altra vittoria bene chi c'è qua un ventilatore la c'è qualcosa che scintilla allora sicuramente riesco a fargli cadere qualcosa sopra il ventilatore no ma è cosa per il fuoco ah si giusto esce l'acqua che rompe il ventilatore si ma non riuscirà mai a ammazzarlo così vabbè c'è il fuoco lì dai quindi voilà ehm sono potente cosa da spezzare queste sono le condizioni della tua uno diventerà lo schiavo personale due riconoscerà gli elfi come padroni assoluti del bastone per sempre tre passate cosiddetto grande mago dovrà saltare su e giù continuamente per tre giorni di fila se si fermerà prima dovrà ricominciare da capo ma assurdo ma assurdo la porta della lobby è bloccata no mmm interessante state indietro ragazzi sta succedendo qualcosa di strano ai sorveglianti del corridoio ragazza pel di carota non toccarlo è un pel di carota siamo venuti a scuola la mattina dopo il terremoto per addempiere il nostro dovere non sapevamo che non c'era scuola abbiamo sentito un suono provenire da qua giù e abbiamo trovato questo boccio verde ovunque hanno fatto qualcosa agli altri sorveglianti sono cambiati così impara testa dei sorveglianti ingromi gli fa diventare ancora più spiegati Va bene, combatti mai da Schnell, schnell Zombie nazi Diamo cosa salta fuori adesso Ah, il martello del caos Wow Martello sacro del mazzuratore Va bene Mitico, mitico Allora, non voglio di fare dei video esageratamente Lunghi, quindi Dabbè, dai La chiudiamo qua questa Oh, lì c'è un altro zombie Vabbè, lo ammazzeremo nel prossimo episodio Ciao, 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 this video Ciao, ciao